È veramente un grandissimo piacere per me essere qui a presentarvi un evento davvero speciale perché il 18 e il 19 maggio a Porretta Terme, nella stupenda cornice dell'Alto Reno, della Valle dell'Alto Reno, proprio tra il fiume e le Terme c'è l'hotel Santoli dove insieme all'amico Paolo Grunetti e allo staff di Altri Mondi sono possibili, presenteremo La Salute è essenzialmente informazione e non si tratta di un semplice convegno ma di un vero e proprio evento multisensoriale. Cosa intendo dire con questo? Intanto cominciamo a parlare appunto dell'evento perché al core, al centro di questo evento ci saranno dei relatori, dei divulgatori, dei ricercatori assolutamente straordinari e già solo questo basterebbe perché l'argomento è interessantissimo e anzi quanto mai vitale di questi tempi ma proprio per rimanere in tema di salute ci sarà la possibilità di accedere alla bellissima spa dell'hotel e soprattutto mangiare al ristorante Il Bassotto, proprio quello gestito dal mitico Franco, un vero, un autentico genio culinario, ve lo posso garantire, che stimolerà le nostre e le vostre papille gustative con la sua ormai celebrata cucina a chilometro zero. E le nostre orecchie? Dove le mettiamo? Beh, le nostre orecchie saranno, diciamo, immerse in vibrazioni biologiche, potremmo dire, con la musica dal vivo 432 Hz. Ma per non farci mancare niente, la domenica pomeriggio si potrà scegliere tra tre diverse pratiche esperienziali. La prima, la visita allo straordinario castello della Rocchetta Mattei. La seconda, una pratica olistica a contatto con l'acqua nella piscina dell'hotel. E la terza, uno straordinario bagno sonoro con strumenti intonati con il La a 432 Hz che si terrà nell'attico panoramico della spa dell'hotel. Che altro vi posso dire, ragazzi? È un'esperienza assolutamente da non perdere. Quindi ci vediamo il 18 e il 19 maggio a Porretta Terme e ricordate che la salute è essenzialmente informazione. A presto e lunga vita e prosperità! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!